Quella che raccontiamo da qualche anno è una bellissima storia di mani. Mani che sono il principale contatto con il mondo per chi non vede e non sente. C'è ancora tempo per scrivere insieme questa storia, chiamando da rete fissa o inviando un sms al 45514. Costruiamo insieme il futuro di tanti bambini e adulti sordocechi. Costruiamo insieme il nuovo centro nazionale, con un sms o una chiamata da rete fissa al 45514. Grazie. Grazie.